Non riesce la rimonta alla battipagliese che pareggia in trasferta con la Virtus Avellino. 1-1 il risultato finale con reti di Cuomo per la Virtus e di Longo. Ammoniti, Criscuolo, Cibele, Fiumarella, Borrelli dall'arbitro russo di Ariano Irpino. Obiettivo centrato tuttavia dalla squadra di Mister Santososso con sofferenza, soprattutto nel secondo tempo per via di un evidente calo fisico. Le Zebrette agguantano gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronteranno il Picciola con l'andata il 1 novembre. Resta intanto da decidere l'andata in casa tramite sorteggio.